buonasera ciao marco ciao valerio come vi avevo promesso io vi sarei stata vicina ben prima dell'inizio del concerto ed ecco qua la maglietta del fan club dei capitani coraggiosi sono la prima di indossarla quindi vi faccio il mio in bocca al lupo e sono con voi ciao ragazzi e stasera abbiamo l'onore di avere qui con noi una grandissima persona che vuol farvi il suo in bocca al lupo grandissima persona marco valeria bocca al lupo ciao